Eccoci qua nel nostro angolo dedicato alla creatività con la nostra amica Francesca Chidini. Ciao Francesca, cosa ci presenti oggi? Oggi vi farò vedere come si può preparare una piccola mini cake con i biscotti, che può essere anche una piccola bomboniera per la comunione oppure un segnaposto, insomma una cosina così. Allora necessariamente servono dei biscotti di due dimensioni diverse. Questi sono biscotti secchi? Sì, sì, grandi. Che si comprano di tante marki. Potete farli anche di pasta frolla tranquillamente. Benissimo, rotondi. Rotondi, poi serve la pasta di zucchero da copertura bianca e anche la pasta di zucchero colorata. Questa è la pasta di zucchero però colorata da modellaggio. Benissimo. Perché serve per fare il fiocco che deve tenere la struttura. Ora, prima di tutto dobbiamo impilare i biscottini. Allora prendiamo un biscotto grande, prendiamo la colla. La colla alimentare? Alimentare, sì. Prepariamo un pezzettino proprio di pasta di zucchero, in questo modo. Mettiamo un goccino di colla sulla pasta di zucchero, la appiattiamo bene altrimenti fa troppo spessore, la appoggiamo sul biscotto e creiamo la nostra torre. Facciamo tre biscotti grandi e tre biscotti più piccoli. Benissimo. E li lasciamo per il momento da parte. Una volta che abbiamo fatto i tre biscotti grandi creiamo questo piccolo, diciamo, pizzo. Pizzo, effetto pizzo. Sì, esatto. Prendiamo sempre la pasta da copertura, la stendiamo, abbastanza sottile, non sottilissima. Prendiamo poi un coppapasta della misura. Sì, i coppapasta sono questi. Sì, sono questi che possono essere sia col fiore o rotondi. Deve essere della misura del nostro biscottino. Lo utilizziamo dalla parte del fiore. Facciamo lo stampo, stacchiamo bene, poi togliamo la parte in eccesso. Il nostro fiorellino lo appoggiamo sul tappetino per i fiori, che questo qui è un tappetino a doppia densità, più morbido e un po' più duro dall'altra parte. E con il con tool, che è questo strumentino qui, facciamo questo lavoro in modo da ondulare leggermente tutte le varie... Tutto il perimetro. Sì, sì, dappertutto. Tutto il perimetro del nostro pizzo. Una volta che abbiamo completato questo lavoro... Perfetto. Lo prendiamo la colla, sempre, è diibile, un goccino di colla sul retro e lo appoggiamo, come abbiamo fatto qui, sul nostro... Sulla nostra pila di biscottini. Esatto. Nella pila più piccola, invece, facciamo un altro pizzetto un po' diverso. Prendiamo sempre il nostro biscottino. Ah, c'era lì. Ecco qua. Sì, scusa. Le impiliamo sempre a tre. Facciamo il nostro piccolo stampo. In questo caso lo stampo, ovviamente, deve essere più stretto perché... Certo, deve essere sempre della misura. Di una circonferenza minore, esatto, però altrimenti non va bene. Dalla parte del fiore, scusa. Certo. Tic. Si ruota sempre. Si ruota sempre in modo da staccare la parte che è in eccesso. Sì. Goccino sempre di colla. E lo andiamo a mettere, in questo caso adesso... Sì, adesso lo facciamo in uno, ma poi dopo andrà... In uno per far vedere. Sulla pila da tre. Sulla pila. Una piccola decorazione con un altro tool che si chiama Star Tool perché ha proprio una stellina sulla punta. Esistono confezioni... Sì, di vari strumenti che hanno diverse punte e si possono fare proprio tante piccole decorazioni. E decoriamo in questo modo. Eccoci. Perfetto. Una volta che abbiamo fatto le due... Le due parti della... La prima e la seconda. Esatto. Mettiamo un goccino di colla. In questo caso, quando è asciutto, è ancora bagnato, si appiccica direttamente. Appoggiamo le due... E creiamo proprio la torre. Sì, esatto. Creiamo una piccola torre. È una torre di biscotti. Esatto. È una mini torta di biscotti. Di biscottini, sì. Esatto. Brava. Allora, adesso prendiamo la pasta azzurra. Che questa è pasta non da copertura, ma pasta di zucchero da modellare, colorata di azzurro. Di azzurro. E andremo a fare il fiocco. Io ho qua il campione già terminato. Andremo a fare questo fiocco. Esatto. Allora, innanzitutto stendiamo, facciamo una specie di piccolo cilindro. Stendiamo la pasta e lo poniamo in verticale. Poi stendiamo la pasta di zucchero con il mattarellino, cercando di creare già una sorta di piccola fascia, in modo da... Certo. Di nastro. Sì, di nastro, sì. In modo da avere già più o meno una lunghezza giusta per fare il fiocco. Poi possiamo lasciarlo così liscio. Oppure è carino anche utilizzare questi mattarelli lavorati, che sono decorati, che sono proprio fatti apposta per decorare la pasta di zucchero. Allora, ci appoggiamo, scusa che mi sposto. Partiamo dall'alto, sempre solo con una passata e si sta stampando praticamente. È una specie di timbro. Esatto, perché sono incisi e quindi viene... Noi stiamo lavorando su questo tappetino, quindi sotto non c'è bisogno di mettere nulla, Francesca. No, nulla. Anche perché la pasta di zucchero da modellaggio è più asciutta, quindi non ha bisogno di... Perfetto. Poi prendiamo il nostro coltellino, o anche una spatolina, è lo stesso, l'importante che tagli. E tagliamo il nastro. Per fare un bel taglio, dritto, preciso. Sì, sì, per togliere appunto le... Certo. Queste parti che non sono proprio belle. Lo tagliamo per tutta la lunghezza. tagliamo anche in eccesso, non importa l'importante, perché magari se ci serve un pezzettino, un più, un pozzettino o meno, siamo già pronti. Poi, la prima cosa che facciamo saranno le due cocche laterali. Sì. Allora, tagliamo due pezzi più o meno uguali. I due nastrini. Sì. Perfetto. Le due parti esterne. E facendo un taglio a coda di rondine, prepariamo la parte finale. In questo modo. Tac. Perfetto. Quindi stiamo... Ci stai facendo vedere come si fa il fiocchettino delle parti. Sì. I nastri che scendono. Sì. Ok. Ora, una volta preparati questi... Si vada un po' a modellare. Sì. Un pochino lo sistemiamo e poi facciamo questo gesto. Stringiamo al centro e rigiriamo verso l'esterno. Benissimo. Quello ci fa la piegatura. Esatto. Bravissima. Poi prendiamo la nostra tortina di biscotti. La nostra colla, scommetto. Benissimo. La nostra colla alimentare. Sì. Sempre lei. Goccino di colla sulla tortina e appoggiamo il nastro in modo che scelgo. Una caduta da una parte e una caduta dall'altra. Facciamo la stessa cosa. Ci fai vedere bene a fare, ecco, il movimento che è fondamentale. Sì, ma tanto adesso ve lo farò rivedere perché è sempre... È sempre quello. Esatto. Sì, sì. Benissimo. E questo ci vuole per fare le due cocche. Poi facciamo il nastro, il fiocco proprio, vero e proprio. Tagliamo altri due pezzi. Ok. Più o meno della stessa misura. Esatto. E ripetiamo il movimento. Perfetto. Schiaccio al centro, rigiro verso l'esterno. Perfetto. Schiaccio al centro, rigiro verso l'esterno. La decorazione deve essere a vista. Certo. E poi in questo caso uniamo e facciamo il fiocco. La cocca vera e propria. Certo. Sempre un goccino di colla. Quanto ci sta Francesca ad asciugare? Allora, ci vogliono per la pasta da modellaggio, dipende dallo spessore. Certo. Più spessa è, più ci impiega. Però, insomma, in un paio d'ore la pasta è asciutta. La pasta è asciutta. Sì. Di questo spessore qua, dico. E dopo, trac, facciamo la seconda parte. Benissimo. Ora, colla sempre e l'appoggiamo sulla... Benissimo. Il pezzo che avanza lo utilizzeremo per fare... Il nodo. L'effetto del nodo. Se è un po' troppo lungo lo possiamo anche tagliare, ma dopo al limite sono... Un po' ad occhio, insomma. Sì, esatto. Rifacciamo lo stessa. Sempre lo stesso identico movimento. Da entrambe le parti. Schiacciamo leggermente al centro e poi lo incurviamo leggermente. Chiudiamo. Mettiamo la colla sulla... Sul centro del... del nostro fiocchettino. E chiudiamo. E lo mettiamo così. Ora... Allora, questa è già una tortina di biscotti con un bellissimo fiocco. All'inizio Francesca abbiamo parlato che può essere un'idea bomboniera. Sì. Nei campioni che tu hai realizzato hai messo la classica uccellino, rondini, la colombina per la comunione. Però ci potrebbe stare un ciuccio. Sì, un ciuccio. Un piccolo fiore. Un fiorellino. Ci può stare qualunque cosa. Esatto. Proprio molto simpatico. L'importante è decidere appunto il tema della... di quello che vuoi. Perfetto. Esistono degli stampini sicuramente. Esatto. Sono degli stampini, degli stampi ad espulsione. In questo caso appunto ho portato la colombina in modo da far vedere come si può realizzare. Io preferisco dargli la tridimensionalità e quindi utilizzo gli stampi un po' più grande, un po' più piccolo. Prendo sempre la pasta di zucchero, in questo caso andrebbe quella da modellaggio. Quella da modellaggio. Perché appunto la colombina deve rimanere più... Perfetto. Abbiamo usato la pasta da modellaggio per la piccola decorazione della rondine, del fiocco, mentre sui biscotti abbiamo usato la pasta da copertura. Esatto. Allora, stendo la pasta, non troppo spessa. Certo. Imprimo subito lo stampo, schiaccio lo stantuffo. Fino che siamo sul nostro tappetino. Sì, esatto. Schiaccio lo stantuffo per dargli le venature e poi estraggo la mia colombina. Perfetto. La modelli un attimo. Le do un pochino di vita e la lascio asciugare un attimo. Prendo lo stampino più piccolo, faccio lo stesso lavoro. Toggo la colombina piccola, le do sempre un po' di vita e poi con un goccino di piccola. Perfetto. Un prodotto che non può mancare. Eh sì, questa serve necessariamente sempre. L'appoggio sopra e schiaccio leggermente la testa in modo da far sì che sembri un unico pezzo. Esatto. Poi la posso lasciare asciugare così, oppure in questo caso posso direttamente metterla sul nostro fiocchettino. L'appoggio lì e la lascio asciugare. Poi volendo si può anche colorare, dare qualche sfumatura con il colorante in polvere e il pennellino asciutto. Sempre con colori, polveri alimentari. Certo, sì. Beh, devo dire che è veramente molto bella, molto facile, velocissima perché l'abbiamo fatta in pochissimi minuti. Beh, Francesca, io ti saluto e nel ringraziare Francesca ricordo tutti che potete trovare tutti questi consigli, prodotti utilizzati e conoscere meglio la nostra Francesca Ghidini sul sito laravella.com. Vi saluto e vi invito a seguirci alla prossima puntata. Ciao a tutte. Ciao Francesca. Ciao.